Quando finiscono le puntate me lo regali, che lo porto dal Corriere, sarò l'unico che ha un tamburo come Sgabè. Eccomi. Allora, come sei riuscito ad arrivare nonostante lo sciopero questa sera? Ci ho messo un'ora dal Corriere della Sera qui e per chi non conosce Milano, insomma qui siamo in fondo via Le Padova, da via Solferino, di solito ci si mette dieci minuti, ci abbiamo messo un'ora. Tu sai che lo sciopero si fa per quello, per creare disagio, dopo che si crea attenzione su un problema. Il caso mio davvero non è indicativo, c'è un sacco di gente che ha avuto un sacco di problemi stamattina e stasera. Io capisco, c'è un contratto che è da due anni che non rinnovano, quindi nei trasporti pubblici hanno ragione di protestare. Mi chiedo, nel 2011, quindi ventunesimo secolo iniziato, non è possibile inventarsi qualcos'altro che sia questa forma in cui di fatto prendi il pubblico come ostaggio? Io capisco le ragioni, non voglio credere che non esista un altro modo. È una questione fra chi lavora e chi li paga, però noi facciamo gli ostaggi. Oggi c'era gente che doveva andare in bicicletta, se hai 30 anni va bene, se ne hai 70 è un po' meno. E' l'uomo di destra che è in te che esce in queste circostanze. Ti ringrazio perché da un uomo di destra non me lo sentivo dire da circa 40 anni. Senti, sempre oggi c'è stata una fuga di massa dalla tendopoli pugliesi di Manduria, dove erano ospitati migliaia di immigrati. Abbiamo visto tutte le giornali le immagini di questi ragazzi che scappano, che corrono, che si incamminano, anche tranquillamente chiedendo un passaggio. Secondo te come si può evolvere questa situazione? Abbiamo visto immagini di ragazzi arrivati a Milano, ragazzi rimpatriati in aereo, non si sa dove. L'hanno messo su un aereo, non si sa bene dove, diretti dove. La questione è oggettivamente complicatissima. Qualunque governo avrebbe avuto qualche problema. Noi, secondo me, nell'impreparazione, perché a Maroni è tempo che lo diceva, guardate che succede, c'è stata dell'impreparazione. Ho seguito la faccenda oggi, penso che dentro il campo di Manduria ci siano meno profughi di quante saranno le ragazze nel processo Rubi a Milano, perché più o meno i numeri sono quelli. Quante sono diventate? Le ragazze sono diventate 43, ma magari ne parliamo dopo. Tornando alla questione ai profughi, io penso, il problema c'è, questi sono scappati dappertutto, sarà un problema per tutta l'Italia. Credo che alcune regioni come la Puglia siano state penalizzate troppo, io non voglio pensare perché avendo la sinistra, il centro-sinistra, sarebbe gravissimo. Di sicuro la Puglia sta pagando molto il meridione. Io sono lombardo, io voglio vedere se ne arriveranno in Lombardia, io ho i miei dubbi. Arrivare sono arrivati, però li stanno già rimandando via. Siamo arrivati come campi, come siti, adesso stanno discutendo io qua, tu lì, eccetera. Non quelli che arrivano qui, perché puoi andare in Francia. Se il nostro capo non fosse andato, Berlusconi, fosse andato a Lampedusa a dire cose tipo due giorni, tutto risolto. A Napoli le abbiamo detto, questa l'abbiamo già sentita noi forse, però non tocca a noi stavolta. Oppure compro una casa così se non mantengo le promesse potete imbrattarla. Cioè io credo che me l'aspetto da un ragazzino una frase del genere. Infatti è piaciuta molto ai ragazzini. Io ho sentito i compagni di scuola di ragazzini che conosco, non miei parenti che hanno detto andiamo con le uova. Ma io lo trovo... Facciamo un campo di golf. Mi sono andato a informarmi. Un campo di golf, sport inventato nella piovosa Scozia, per tenerlo a posto occorre l'acqua necessaria ad 8.000 abitazioni, quindi 32.000 persone. A Lampedusa notoriamente hanno problemi idrici. Tu vai a dirgli che fai un campo di golf. Magari lo fa con l'erba finta. Con l'erba finta? Io voglio vedere le facce dei profughi. Cioè io li seduti non vanno più via perché è uno spettacolo. Cioè questi due non hanno l'acqua per gli abitanti, fanno un campo di golf e quello compra la casa perché gliela imbrattino. Quelli tornano in Tunisia e dicono questi sono matti, è chiaro. Tu che sei il nostro British, hai visto l'intervista del ministro Frattini alla BBC, parlava un buon inglese, no? È migliorato molto, io l'ho intervistato negli anni 90 a Frattini, aveva difficoltà grosse con l'inglese, ha imparato, bisogna dargli atto. Devo dire che quando gli ha fatto la domanda Jeremy Paxman, che è uno che fa domande dirette, chiare e secche, il tipo di cose che in televisione in Italia sono scomparse, questo tipo di interviste, gli ha fatto alcune domande. Una gli ha detto, mi scusi, lei andava ai parti del suo principale e lui ha risposto qualcos'altro. Lì è stato il momento, secondo me non aveva forse capito bene la domanda, perché ha risposto, il mio capo può decidere da solo, che non è proprio la risposta giusta. Gli ha chiesto, perché voi non lo prendete voi Gheddafi? E lui ha risposto, non vogliamo i dittatori, che è una buona risposta. Avrebbe dovuto e potuto aggiungere, secondo me, che poiché Berlusconi aveva un rapporto speciale con Gheddafi, io penso davvero che questo sia il momento in cui Berlusconi può prendere un aereo, se ne va a Tripoli, evita i baciamani chi è meglio, e va là e negozia, perché se c'è qualcuno probabilmente che può convincere quest'uomo ormai pericoloso ad andarsene, e probabilmente manca poco, è Berlusconi, quindi c'è davvero un ruolo per lui, adesso, secondo me. Ma secondo te se ne sta parlando? Perché se ti sente Berlusconi, parla, non vedelo ora. Secondo me dovrebbe, io lo dico sinceramente, io penso che, siccome gli altri stiamo facendo tutto, non è che possiamo solo dargli le base, come dice la russa, fargli affitta a camere, io penso che ci sia un ruolo per lui, oggi, ho qualche dubbio che lo farà, francamente. Beh, forse non glielo fanno neanche fare, insomma, è una situazione abbastanza complessa. Cioè, il presidente del consiglio prende un aereo e ci va, e chi lo deve chiedere? Alle guardie, al fiumicidio? Scusate, posso prendere... All'anato, no, in questi casi? Beh, insomma, hanno fatto i vertici a quattro senza di lui, e dice, vieni, io sono il quinto e vado. Sei peggio di lui, tu. No, io dico, potrebbe essere utile. Gheddafi va convinto a sloggiare, quindi... Va bene, un'idea di Beppe Severnini. Un'altra grana per Frattini. Nicole Minetti oggi ha detto, no, oggi o ieri in un'intervista, che il suo sogno è fare il ministro degli esteri. A parte tutte le facili ironie, ha delle chance, secondo te? Ma guai, è possibile tutto in questo paese. Io credo, innanzitutto Frattini farà Colorado Cafè per un po' così di simmetria, perché a sto punto... Però... Però, vedi, Daria, io penso... Allora, Nicole Minetti vuol fare il ministro degli esteri. Ha detto che sarebbe un sogno. Questa signora che si chiama Ohara, Ohara, che il cognome fa... Aspetta, non... Ber... Non Bertelli. Berselli. È un nome così. Comunque, è il nome che mi ha colpito. Perché se la mamma guardava via col vento, invece che chiamarla Ohara, potrebbe chiamarla Rossella, che era più bello. Se vogliamo essere... Il primo nome fa Ohara. Devo dire che è un po' ingiusto quello che le ha tirato addosso, perché una di mestiere fa la presentatrice, non la pagano molto, è andata a dare una mano. È rimasta travolta da quest'onda. Comunque, lei, direi, la mettiamo al Ministero della Difesa. Direi, Rubi alle finanze, perché ha dimostrato una certa pratica. E poi facciamo questo paese. Ormai sta diventando un musical. Voi applaudite, ma questo paese sta diventando un musical. Io credo che noi abbiamo... Anche perché adesso arriva il processo Rubi, vedrete cosa accalerà su Milano, televisioni, radio, giornali stranieri. Forse il nostro futuro è questo qua. Mettiamo su un grande musical, noi facciamo tutti i coristi e vediamo come finisce, magari. Però non sono ammesse le telecamere al processo? Dentro l'aula no, e ti confesso bene così. Io credo che questo processo andasse fatto. Le accuse sono gravi. Non si tratta di come passi le serate, ma tanto ne abbiamo parlato mille volte, tutti quanti, non solo in televisione. Quindi, giusto fare il processo, però un po' perché sarebbe umiliante per l'Italia, sarebbe una gran confusione, è giusto che non portino le telecamere dentro all'aula. Secondo me. Il rischio, tornando all'intervista di Frattini con Jeremy Paxman, che gliel'ha chiesto chiaro e tondo, gli dice, scusi, lei lo sa che il suo capo è diventato the laughing stock, in inglese lo zimbello del mondo. Io, tu puoi amare o no, Silvio Berlusconi, però è un'amarezza. Tu sei italiano e non puoi non essere ammareggiato. Però io me la prendo col mondo, me la prendo con l'Italia tutta e lui in particolare, che forse avrebbe dovuto darsi una calmatina, mettiamola così. Cosa ti aspetti da questo processo? Da questo processo mi aspetto un'attenzione mediatica spasmodica, mi aspetto che molte di queste ragazze siano convinte di essere sulle passerelle della moda poco distanti e ne approfittino per diventare famose e incassare tutto quello che possono incassare. Sarà una tristezza nella tristezza e soprattutto, però la cosa importante, mi aspetto di capire se le due accuse, ovvero concussione e in particolare la prostituzione minorile, ci sono state o no, perché queste sono cose serie per chiunque, figuriamoci se sei il leader e quindi, secondo me, è l'esempio del tuo paese. Quindi questa risposta deve arrivare a tutti i costi. Temo che prima di arrivarci vedremo una sorta di circo rubito. E' stata la settimana delle monetine e della rissa alla Camera. Come la vuoi chiamare? Insomma, no, non si sono menati, ma quasi, delle parolacce. Come commenti? Quel che è successo? Gli insulti del Ministro della Difesa al Presidente della Camera? Io credo che la terza volta nelle nostre chiacchierate del venerdì che ci torniamo su, quindi sarò brevissimo, quando io continuo a ripetere che la legge elettorale è un disastro perché produce quella classe politica, perché non la scegliamo noi. Il rapporto fra eletti e elettori è saltato, è una nomina, vengono nominati. Allora, il risultato è che quella è la classe politica. L'unica cosa vuol tenersi buono il capo e per questo è disposta a tutti. Queste scene sono un disastro. I ragazzi non guardano più al Parlamento come esempio, ma è umiliante. Io non riesco a capire. Voglio essere chiaro e brutale. il ministro che lancia i vaffa è orrendo, l'altro che butta il tesserino è terribile, ma quello, ma quello che ha detto fate star zitta, quella handicappata del cazzo, scusami, ma riferisco, allora, un parlamentare che dice una frase del genere dovrebbe essere cacciato dal suo partito, dal Parlamento e dall'opinione pubblica. Hai chiuso. Tu hai chiuso. Fai un altro mestiere. E invece vedrai, se però non prendiamo la letta, vedrai, ce lo ritroviamo lì. Questo signore, non è importante il partito e il nome. Questo signore dovrebbe dirgli, tu hai chiuso. Fine. Ma dovrebbero dirglielo alla gente. Invece, noi, se è di sinistra, allora la sinistra gride e la destra difende. Se fosse di sinistra accadrebbe il contrario. Ti chiudo con un aneddoto. Il ex ministro, primo ministro inglese, Gordon Brown, va su un aereo, vuole tutta la classe business, o quasi tutta, per lui e i suoi collaboratori. I passeggeri protestano. L'opinione pubblica britannica per una roba che è insorta. Come? Come osi. Da noi cosa avrebbero fatto? Se il sopruso è fatto dal ministro di centrodestra, protesta la sinistra. Se è fatto dal ministro di centrosinistra, protesta la centrodestra. Invece, secondo me, dovremmo protestare tutti, sempre. Ripeto, visto che così è una terza volta, chiudiamola in bellezza, io faccio un appello pubblico, non voglio essere retorico, io voglio che questo signore che ha detto fate star zitta a quella handicappata del cazzo, se ne vada e non si ripresenti più in Parlamento. Invito il suo partito a cacciarlo. No, perché altrimenti, ancora adesso, la testa di metallo dicono ma è dall'altra parte. No, scopritelo voi, andate a vedere chi è, di che partito è, chiediamo al suo partito di levarcelo di torno. È stato chiaro? Più di così. Sì, chiaro. Grazie. 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 A Beppe Severnini. Grazie. 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 Grazie.